Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Continuiamo con la nostra serie di piante fantastiche con una pianta che onestamente io non conoscevo, non conoscevo quantomeno in maniera così approfondita prima di fare l'articolo. Avevo in mente più o meno due o tre cose, avevo in mente la sua possibile esistenza, però francamente mi ha completamente stupito tutto quello che ho scoperto e quindi addentriamoci un po' più nel dettaglio. Vi sto parlando dell'agnello vegetale della tartaria, una pianta che, lo chiariamo fin da subito, al contrario della mandragora, non esiste. Di fatto, mi spiace chiarire fino adesso la leggenda, ma purtroppo quando invece entrerò in dettagli vi accorgerete del perché, chiarisco fin da subito, non è una pianta che è mai esistita. L'agnello vegetale della tartaria di fatto è un modo che avevano i medievali e in realtà fino ai pre-1900, fino a fine dell'Ottocento per chiamare il cotone. Perché di fatto non erano stati così astuti da capire che questo fantomatico agnello vegetale nient'altro che quello era e quindi si sono dati veramente a leggende una più strana dell'altra e che, tra l'altro, l'ultima, diciamo, attestata sarà del 1892, quindi vuol dire una credenza non radicata di più, perché per arrivare, ripeto, fino a quasi le soglia del Novecento e avere ancora il dubbio che questa cosa esista, vuol dire proprio che era ben concentrata la leggenda. Innanzitutto, cos'è questo agnello vegetale? Vi chiarisco un attimo, diciamo, la sua versione finale, fra virgolette, così poi ci addentriamo e facciamo un attimo una risalita nel passato. L'agnello vegetale, secondo un naturalista chiamato Henry Lee, era essenzialmente una pianta, erbacea, normale, come appunto può essere un cavolo, dal quale poi nasceva un particolare pistillo e, scusate, un particolare stelo, quindi diciamo il gambo del fiore e al posto di un fiore c'era un agnello, vero, un agnello al 100% con la lana e tutto, che nasceva, mangiava tutta la verdura che aveva intorno a lui e poi moriva. E, appunto, per essere ucciso dovevi tagliare questo stelo oppure aspettare semplicemente che mangiasse tutta la verdura che aveva intorno, perché poi si sarebbe morto per i fatti propri. Questo, diciamo, era il mito base, ma da dove viene? A qualche base, a qualcosa, diciamo, di vero, oltre al fatto che esiste il cotone e questi non avevano capito che non era una pecora, ma era una fibra. In realtà, sì, nel senso che questa strana leggenda venne comunque sopportata da tutta una serie di non ritrovamenti, ma di leggende locali. In particolare, per la cultura ebraica, c'è una creatura, una pianta chiamata Yedua, che dovrebbe essere proprio molto simile, effettivamente, all'agnello vegetale. È sostanzialmente una pianta che ha come caratteristiche, appunto, questo fatto che ha lo stelo, nello stelo c'ha questo agnello e che deve essere uccisa, appunto, trafiggendo con delle frecce questo stelo. Tutto, insomma, anche abbastanza plausibile, almeno per i racconti dell'epoca. In più, va detto che, ad esempio, nel Medioevo, se, non solo nel Medioevo, scusate, fino, anche in questo caso, a tempi non troppo lontani, si era convinti che, ad esempio, delle oche nascessero da dei crostacei. Quindi, se tu arrivi a pensare, francamente, che l'oca nasce da la specie di crostaceo, appunto, che si attacca alle barche, che è un nome specifico, ma che, onestamente, non ricordo, Ciripide, penso che sia, beh, nasce l'oca da lì, francamente, meno strano questo fatto. In più, la leggenda, diciamo, se in passato era comunque esistente, ma non era particolarmente nota, inizia a girare sempre di più a partire dal XIV secolo. E questo, grazie a un viaggiatore inglese, viaggiatore, per modo di dire, perché viaggiò in tutto il mondo senza muoversi di casa, inventandosi buona parte delle cose. Però, all'epoca, il grande viaggiatore inglese Sir John Mandeville ne parlò, proprio, in maniera precisa, di questo animale, anche se va detto che è assurdo, perché lui non parla, in realtà, del cotoso, cioè, palesemente, non ha nulla a che vedere. È chiaro che lui non ne aveva nemmeno viaggiato, quindi, probabilmente, si basava su fantasie, su ricordi che avevano portato altri. Però lui non diceva tanto, tra virgolette, a della lana che spunta al posto dei fiori. Lui parlava, più che altro, di una sorta di zucca, che, una volta gonfiata sia l'inverosimile, dentro aveva un agnello. E questa zucca, tra l'altro, a quanto pare, era sia ocaida tartare, ma, ancor di più, della Persia. Boh, e già, diciamo, uno qua rimane un po' stupefatto. Ma la cosa più divertente è che Odorico di Pordenone, che fu un importantissimo viaggiatore italiano, un frate, disse, no, effettivamente, quando io sono andato, e lui era veramente andato in Cina, per la Persia ho visto, effettivamente, delle cose così. E quindi, naturalmente, se già c'era il viaggiatore che diceva questo fatto, in più c'è l'altro viaggiatore, che è sicuramente stato in Cina, che diceva questo, beh, effettivamente, piano piano, la gente iniziava a crederci sempre di più. Fra l'altro, va anche detto che nel 1600 fecero addirittura delle spedizioni. C'è un medico tedesco che organizzò una spedizione in Persia, per capire se esisteva o no, e non trovò nulla, onestamente. Ma pensò, comunque, che ciò fosse dovuto a una particolare tradizione di alcune popolazioni locali del utilizzare comunque la lana dei feti, se non mi sbaglio, delle pecore, anche quelle innate morte, o addirittura di andarla a prendere prima che nascessero. E quindi lui si spiegava un po' in questa maniera, questo strano mito. Seppur, io per dire, questo non nemmeno ho messo nell'articolo perché mi sembrava una roba in più. Ve lo aggiungo a voi per fare l'extra perché vi adoro, che mi ascoltano tutto il tempo, eccetera. Fatto sta, a metà del XVI secolo, invece, c'è il primo trattato veramente importante che si concentra in maniera approfondita su questa pseudobestia, su questa pseudopianta. È un trattato di Sigismond von Heberstein che, appunto, presenterà due imperatori a Sburgo, Carlo V sicuramente, l'altro era il padre, se non erro, presenterà un resoconto molto approfondito, appunto, di questa strana bestia. E, appunto, il resoconto sembra quasi reale perché lui parla di un animale che sta all'incirca fra il Don e un altro fiume vicino al Mar Caspio, che è alto 80 centimetri, che non ha sangue, ma ha una linfa speciale che lo ricorda e che, ad esempio, la sua carne sa di granchio. Cioè, mette tanti dettagli e quindi, effettivamente, io mi rendo conto che, se già tu avevi il dubbio, perché te lo dicevano tanti studiosi e attenti e tutto, in più arriva addirittura un trattato su quest'animale che ti dice addirittura di che sapore sa. Ah, che addirittura una cosa così precisa vuol dire che uno è stato, ha mangiato, ha visto, inizia anche ad essere sicuro, effettivamente. I dettagli sono un po' troppi. In più, fra il 1887 e il 1892 ci furono due diversi trattati che si occuparono ancora più scientificamente di parlare di quest'animale. Quindi ci fu un trattato, appunto, quello di Henry Lee, che ne trattò da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista anche fisiologico. E poi ci fu, invece, un trattato di questo sinologo olandese che si chiamava Gustav Schlegel, che invece, seppur, diciamo, il trattato di Schlegel era un po' diverso. Nel senso che lui parlava più che altro di dove poteva arrivare, quale potesse essere l'origine del mito. Sostanzialmente lui credeva poco, a quanto ho capito, a questo particolare agnello vegetale. Però, per qualche stramantivo, cioè, era veramente sicuro di un agnello marino. L'agnello marino, naturalmente, era anche, in questo caso, un'altra fibra vegetale e, in questo caso, appunto, il bisso, che è una fibra vegetale, è una fibra con la quale si possono fare, ad esempio, dei guanti, dei vestiti, e che viene ricavata da alcuni filamenti di alcuni molluschi particolari. Quindi lui pensava che potesse avere un'origine simile e che anche questa venisse dalla Cina. sostanzialmente, quindi, due trattati diversi a parlare ancora di più di quest'animale che, tuttavia, nessuno aveva mai visto fino a quel punto e continuarono a non vederlo mai proprio perché, per essere chiari, non esiste. Non esiste in assoluto? No. In realtà, esiste. Che senso esiste? Ci sono gli agnelli vegetali, eccetera? No. Nel senso che è stata identificata, però, una pianta che, per qualche strano motivo, si pensa, possa essere l'agnello vegetale. Io, francamente, quasi non mi capacito di come tu non possa capire che questo è palesemente cotone, proprio perché ha tutte le caratteristiche. Invece, si pensa che no, non è cotone, è un'altra pianta diversa, una pianta che si chiama Cibotium baromez e che voi potete guardarla, potete cercarla, tanto sicuramente la metterò nell'articolo. Non c'entra assolutamente nulla. Cioè, per carità, eh, con molta fantasia uno può dire qualsiasi cosa, però, questo Cibotium baromez che poi prende il nome proprio da questo fantomatico agnello vegetale, sono delle felci. Cioè, ci vuole veramente un lavoro incredibile di fantasia straordinario per vedere da due felci, perché di fatto quello è un agnello. Però, va detto che ci fu questo che era, che si chiamava Sir Hans Sloan che andò effettivamente in Cina e lui disse no, questo è sicuramente la felce cinese. E quindi, per qualche strano motivo che, ripeto, io non ho capito perché sono sicuro che questa pianta avrà qualcosa di particolare, eccetera, però, effettivamente, da un punto di vista tecnico, se voi scrivete agnello vegetale, soprattutto in inglese se mettete questo nome, vi appare questa fecce, quindi, in realtà esiste. Anche se, ripeto, come ho già detto fin dall'inizio, tutta questa leggenda dell'agnello vegetale è palesemente un modo che avevano gli antichi, purtroppo hanno troppo antichi rispetto a noi, di chiamare il cotone, proprio perché non si aveva dimestichezza con la coltivazione del cotone e una volta che probabilmente si scoprì invece il cotone con la conquista dell'America, eccetera, o si sperò oppure si volle comunque credere che esisteva un altro animale, che per carità, se esistesse l'agnello vegetale io sarei il primo, cioè proprio mi faccio un giardino di agnelli, però è veramente irrealistico e appare sempre più evidente ogni anno che passa che non fosse nient'altro che un lavoro di fantasia fatto sul cotone che, ripeto, all'epoca era veramente sconosciuto se non per le classi più importanti che era invece conosciutissimo in Medio Oriente, eccetera, quindi ancora più facile per magari l'inglese di Londra del Medioevo non capire appunto l'esistenza del cotone e dover inventare questa storia, però quella dovrebbe essere la base. Noi ci salutiamo, domani vi parlerò delle piante carnivore dell'Indonesia e sono molto contento di parlarvene perché io adoro le piante e ad un certo punto ho anche coltivato per tipo due o tre anni proprio piante carnivore quindi diciamo che è una puntata che sono fortunato posso anche evitare di preparare con troppa fatica perché è qualcosa che ho proprio sperimentato sulla mia pelle. Purtroppo poco le piante di cui vi andrò a parlare che sono le Nepenthes però naturalmente qualcuna ne ho anche avuta quindi sicuramente diciamo sarà interessante riparlarne noi ci vediamo alla prossima seguiteci su facebook instagram spotify youtube chi più ne metta e vi ricordo il patreon che è aperto e qui quindi potete iscrivervi alla prossima e qui più ne metta la prossima